Prova, forza! Ci proviamo? Maestro, maestro, posso partecipare anch'io? Certo, vestiti che puoi partecipare. Maestro, vi vado alla nostra location? Vi vado ad appoggiare alla nostra specialità? Certo, come non? Bistarante pizzeria ci stai con i cerezi. Să mangi un buon, iubrezzi, iarmii, iubrezzi, 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 iubrezzi! Ricordate-te! Noi abbiamo un re, noi abbiamo un re, noi abbiamo un re, e il re Vesuvio! Noi abbiamo un re, noi abbiamo un re, noi abbiamo un re, e il re Vesuvio! 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 Noi abbiamo re, noi abbiamo re, noi abbiamo re, noi abbiamo re, e il re è presubbio. T'aggia sempre visto con mano gigante, a te ne fa mano una creatura che viene da lì. Grazie a tutti.